Ecco, prossimo brano, l'ultimo brano, dopo se volete ci hai visto, l'ultimo brano, non lo presentiamo, non lo presentiamo, non lo suggeriamo, cioè cammina qua dalle percussioni, non so da dove suona, sono per il nome, e diciamo ad un brano che tira fuori la parte più animale che scala dei nostri coristi, in senso buono, però io. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.